La sorpresa che vi ho annunciato prima, sono qui per esempio, siamo arrivati a questo momento i due personaggi che sicuramente li conoscete di sicuro uno è Umberto Smaila, R-Droni, cioè io quasi quasi mi vergognerei di prendere il microfono davanti a loro perché mi sento piccolo, troppo piccolo Diventi rosso per la vergogna Eh, allora, rosso, no viola, viola, perché rosso non si vede Allora, la prima cosa che chiedo a te è cosa mi consigliate? Voi che siete al top, io che sono così, che sto iniziando, che consiglio mi date? Non so se sia così interessante per il pubblico a casa sentire questo No, per me sì Ah, per te, ma allora scusate un attimo che parliamo Qualcuno ne approfitta anche Guarda, devi parlare con uno che veramente ne sa più di me, che è Red, Red sicuramente Red, cioè puoi parlare con lui di un altro Che cosa ti consiglio? Per che cosa? Per crescere in televisione Per crescere in televisione? Devi mettere degli tatteroni, cioè devi, non lo so, o mi abbasso io così siamo alla pari, non lo so, per crescere in televisione, non lo so No, per... Per che cosa? Come lo posso dire Marco? Eh, puoi dire... Un consiglio, uno che sta iniziando Trova dei grandi che hanno molta esperienza in questo ambiente Che consigli mi date? Per poter avere magari un giorno esperienza? Devi preoccuparti degli altri, non di te stesso Più ti preoccupi degli altri, più cresci tu Sembra strano, ma è così Sì, cioè più tu dai la spazio agli altri, più cresci tu È una cosa che può... però è così Bello, hai visto che il consiglio ha funzionato? Sono d'accordo Anzi ti dirò, visto che ti devi preoccupare degli altri Per esempio potresti fare un'iniezione a Idris E quindi lui si addormenta e vai tu a... Ti faccio un esempio, no? Umberto Smile all'inizio si diceva, no? Vai là dallo Smile al suo locale perché ci vanno i personaggi famosi E ci elencavano tutti i personaggi E lui mano a mano che c'era il personaggio Lui li tirava sul palco Quindi lui cedeva il suo spazio agli altri Adesso è diventato famoso lui Il suo locale E lui l'ha fatto dando spazio agli altri Perché io lo sento prima Io sapevo... È un grillo saggio, Red è un grillo saggio Sì, lo so, lo so, lo so Perché da anni che lo seguo Ma help lo guardo tutti i giorni Mi riguarda anche... Anch'io perché sono gli orari giusti per me Anche mi ricordo in mente Mi ritorno in mente Mi ritorno in mente? Sì, lo guardo proprio Invece io ti voglio chiedere una cosa Ma perché tu con un paese bello Tu abiti in Sardegna, non ci puoi neanche dire Ma spieghi come mai la gente viene via dal Senegal Che è così bello per venire a Milano ad esempio Dove c'è la nebbia Dove chi l'ha, c'ha un sole bellissimo Io Milano l'ho lasciato due anni fa per venire qua Perché qua mi ricorda almeno un po' la mia terra Eh sì, qui, qui in effetti è bello qui eh Ma voi, io so che siete innamorati della Sardegna Sia lui che è il locale qua Redroni l'ho seguito con... quando era? Con Maria Carta quando è mancata Sì, sì A proposito di lei, che ricordo? Di lei ho dei ricordi che fortunatamente sono documentati Cioè con lei abbiamo girato quell'anno Delle cose bellissime nei luoghi della Sardegna Che un giorno, quando sarà il momento giusto Mostreremo in tv E invece lui è sempre qui in Sardegna Come me per... Lui sì, locale esiste da... Sì, da tanto tempo No, la storia mia è molto semplice Voi avete seguito la storia di Eric Clapton Che soltanto adesso ha scoperto di avere due fratelli In Florida Ma sai, letto sui giornali, no? Ecco, due fratelli che non aveva mai saputo di avere A me è successo la stessa cosa Io non sapevo di avere un fratello che è qua, eccolo qua Questo signore C'è suo fratello Ecco Sì, sono suo fratello Dopo 48 anni Ho scoperto che avevo un fratello in Sardegna Che avevamo la stessa mamma Perché mio fratello è anche me, hai capito? Pure te È vero, è vero Siamo qui, non sappiamo fare cose Lui ha detto dovete venire Noi ci siamo venuti a prendere in macchina E ci ha portati qui a Cagliari Al boetto adesso Del sultano del Brunei Direttamente a... È imbrogliato È imbrogliato Avevamo la stessa mamma Ma i padri erano... Navigavano Erano un po' diversi Insomma Lui era... Il suo era un irlandese Il mio era un turco E il suo era un sardo Credo che sta guadendo Andando in giro con due personaggi così No, no Io ero lì che guardavo Pantani Doveva e dice Non ti preoccupare C'ho la televisione anche in macchina Sono salito E c'ho la televisione in macchina Solo che quando parte si spegne C'è scritto Per la sua sicurezza Il tv rimane spento Quindi ho sentito la radiocronaca Ecco Pantani che scatta leggendo Per la sua sicurezza Il tv rimane spento Però l'ultimo chilometro si è fermato Mi ha fatto vedere l'arrivo di Pantani Quello almeno... Perché io tengo ai fratelli Quindi essendo più piccolo Certamente Si vedo Certamente Allora, di musica Io ho visto che lei È l'unica persona Lui è un musicista No, no Sei un musicista Io sto parlando a livello di Di esperienza musicale in generale Perché ho visto molte persone O seguono un genere musicale O l'altro E invece è la persona da questi anni Dieci anni che sono in Italia Che ho notato Dall'Africa All'America All'Italia Tutti i generi musicali Li segue Non riesco io a capire Qual è il genere che le piace Tutti 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 Perché Adesso ci hanno appena regalato Un libro bellissimo Di strumenti sardi Mi piacciono moltissimo Che ne so Dai Cordas et Cannas Che fanno una musica straordinaria Siamo a Cagliari Marisa Sannia Ha fatto dei dischi bellissimi Di recente Dove ha musicato delle poesie Con una dolcezza incredibile Ai prodigi O ai verve O a Mozart Perché è brutto Mozart Puoi dire che Sai Credo che quando Quando sei ragazzo Hai Hai molti paraocchi Nel senso Più vai avanti Più ti cade questa Più accetti le persone Accetti ogni tipo di cosa E allora scopri che È bello È bello sentire anche Vamos a Tecchiglia Com'è quello Vamos a Alla playa No quello di quest'anno Vamos Non tengo di nero Non tengo di nero È bellissima È molto bello Però è bello Anche un brano Di Trilogurto Che è un percussionista Indiano Fantastico Trilogurto Io non ho Perdo una di Trilogurto Madonna Poi io non so Perché io sono Essendo ancora ragazzo Invece sono ancora Ma qual è il suo genere Preferito? Il mio genere preferito Sono le interviste Un po' concise Tipo quelli No voglio dire E come si chiama? Gabri e il Battistuta Il mio genere preferito È tutta la musica La penso esattamente Come La penso esattamente Come Red Cioè io Posso emozionarmi Con il secondo Concetto di Pianoforte Orchestra Di Rachmaninoff Così come Che ne so Una canzone degli U2 Perché lei Io seguo Vedo cantare Vedo suonare No? Ma Red Non sono mai riuscito A capire Quale che le piace C'è davvero Ma c'è un genere musicale Che le sta Tutti Ma davvero Tutti all'osserva Sì sì Ci sono tante cose Di ogni genere Io sono duro e bello Per alcune cose Per dirti una Un personaggio Del Senegal Come Bravo Che ne so Mi piace moltissimo Elisa Mi piace Nemor Ciba Ti dico le ultime cose Scancanensi Lighthouse Family Che ne so Brown Van 3000 Ci sono 86.000 cose Che sono bellissime Quindi Ti sto dicendo le ultime cose Nella storia della musica Da una solo di chitarra Di Eric Clapton Alla voce Di Ella Fitzgerald A Battisti E basta Cioè ce ne sono 86.000 Di cose belle E quando ci invitare In suo locale? Venite quando volete Anzi Sono già d'accordo Con i vostri responsabili Che Rispettiamo lo Smilers Di Porto Quattro Bene Diamo appuntamento Smilers Si chiama Il locale Bello Redroni Guarda io sono Sono emozionato Tu andavi di fare un rap Adesso tu Prendi il microfono Sì E te ne vai Facendo un rap Tu perché tu Faccio un rap Ok vai Vado? Vai Detto da Redroni Lo faccio Vai vai Ma tièque miscite Diallo Comoda Le bong bong Segri Coy Ma n'a Padiu Co Wail Suquer Balamburo Dier Tandar Madale Costa Farbi Cotilde Mam Nec Tagal Machabra Tampam Alimano Pilingue Nam Saba Lep Man Mal Arro Toda Ndaka Tukes Tukas Saba Ndaka Top Tira Bi Ndaka 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 ma da mon coloban sagginan infodè